Salve ragazze, benvenute, bentrovate, siete nel mio canale, io sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio nuovo format rubrica diciamo pre natalizia, natalizia insomma per questo mese di dicembre e appunto fate voi la domanda. Quindi la domanda di oggi è ci sarà una relazione stabile quindi con la persona di vostro interesse? Ci sarà una relazione stabile? Si arriverà non so a una convivenza, a una situazione insomma appunto più definita quindi andremo a fare questo interattivo. Ho pensato di prendere i mini tarocchi dell'armonia e gli oracoli di Ellen. Allora ragazze sapete che è un interattivo veloce, velocissimo per cui io inizio subito a mischiare le carte, andiamo alla domanda quindi ci sarà una relazione stabile? Allora tra voi e la persona di vostro interesse? Ci sarà una situazione stabile? Si arriverà a una convivenza? Non lo so qualcosa di più diciamo definito? Andiamo a vedere. Sapete come vi dicevo che è un interattivo breve quindi andremo ad analizzare questa domanda. Ecco qua sono uscite delle carte prendiamole. Allora qui abbiamo la carta delle stelle, abbiamo l'asso di denari, abbiamo il sette di bastoni, abbiamo la carta dell'eremita e la carta del sole. Andiamo al taglio. regina di pentacoli. Allora ragazze assolutamente sì assolutamente sì vedete qui abbiamo in questo momento degli ostacoli quindi voi fate questa domanda perché effettivamente questa persona ha messo delle barriere insomma è un po' in disaccordo. È come se voi regina di denari, regina diciamo proprio regina più diciamo indicata non poteva uscire con questa domanda. Ci sarà una relazione stabile? La regina di denari è la regina della stabilità. Vedete stabilità affettiva e materiale quindi voi la volete e sicuramente l'avrete perché poi qua c'è la carta del sole anche se questa persona si in questo momento si è allontanata da voi perché vedete sette di bastoni e l'eremita quindi qua c'è abbastanza diciamo questo allontanamento è per saggezza cioè nel senso è per ritrospezione per capire bene cosa vuole fare. Però questa persona ve la darà un'opportunità vedete asso di pentacoli e poi abbiamo la carta delle stelle. Infine la stesa si conclude con il sole che dirvi si apre con le stelle si conclude con il sole io penso che questa persona vi darà una stabilità. Andremo a convivere insieme ma io penso che potrebbe anche esserci una convivenza magari non subito piano piano ma sicuramente ci sarà anche quello perché vedete voi venite fuori come regina di denari vi dicevo prima regina di terra capricorno vergine toro portarne l'ascendente ma anche se non siete non fate parte di questo segno però questa donna questa regina questa energia è proprio come dicevo la regina della stabilità quindi qua vedete ci sono denari anche l'asso di denari è una notizia una gioia un come dire un un'opportunità una fortuna qui ci sarà proprio un rinnovamento e se questa persona è una persona che avete conosciuto adesso sicuramente andrà a finire così ma se è una persona con cui avete una relazione e non vi ha dato fino adesso stabilità sicuro che ve la darà sicuro che ve la darà. Andiamo a vedere ancora prendiamo alcune carte con gli oracoli di Helen quindi ci sarà questa già è uscita la prendiamo la mia mamma allora ci sarà una relazione stabile andremo a convivere insieme ci sarà una relazione qua è uscita un'altra l'ho vista scoperta eccola qua allora andiamo a vedere ancora aspettate fatemele per sistemare se no non le posso mischiare quindi ci sarà una relazione stabile andremo eventualmente a convivere insieme ci sarà una relazione stabile ci sarà un po qua sono uscite troppe prendiamo una ecco qua prendiamo quelle che servono che sono uscite e poi andiamo allo smazzo a vedere il fondo mazzo ecco qua allora ragazze le carte di gli oracoli di Helen mi confermano questa situazione vedete questa persona con voi inizialmente qua vi dava una relazione con altri obiettivi con illusioni con apparenze e menzogne però qua si cercherà la soluzione si troverà la soluzione questa persona dopo questo allontanamento isolamento riuscirà a capire che è innamorata di voi abbiamo la carta della costanza dell'amore vedete cosa dice vorrei venire da te ma mi trattengo qua ci sarà ancora un po di tempo prima che questa situazione possa verificarsi però vedete qua anche la carta la nostra storia è tutta da scrivere ti aspetto ti desidero ti sogno ti penso quindi questa persona sta riflettendo è in isolamento con l'eremita sta cercando questa soluzione vedete però anche perché voi siete un po giudicante nel senso qua vi 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 considero un po una donna sì una donna anche positiva per carità una donna che consiglia voi diciamo che un po questa carta è 50 e 50 un po è positiva perché questa persona vi ritiene anche come un rapporto come madre figlia no figlio cioè vi sente una persona degna di fiducia di considerazione un po si sente troppo giudicato da voi quindi questo è un aspetto che poi la regina di denari ha assolutamente e quindi magari tenetelo un po a bada comunque alla domanda che se ci sarà una relazione stabile sì andremo a vivere a convivere secondo me assolutamente sì anche questa altra domanda e magari ci vorrà un po più di tempo perché questa persona deve ancora diciamo capire bene come e come organizzarsi e come fare ma l'intenzione c'è e l'evoluzione c'è ragazze se vi è piaciuto mettetemi un like se vi siete riscontrati nella variante se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete informate di tutte le mie attività vi ringrazio vi mando un bacione vi do appuntamento agli altri miei interattivi ciao ciao